Ecco il secondo tempo di Real Madrid e Stocchioli Manchester United Buonasera amici, amici, il canale 250.224 di Scacca di E' da fare Alessandro che gioca per semiscono la Champions League Sentiamo cosa da dire a riguardo la partita E' molto nervoso amici Attenzione Manchester Manchester attacca ma Roma recupera Attenzione lo vedo nervoso Se passa gioca contro di me Attenzione qua la situazione si fa piuttosto rovente Le vestemme non si contano più ormai Mica è brutta Ma per esempio non lo vestemmo Perché sei di Cristo poi E' tesissimo amici E' tesissimo amici Dio Amore tu Daniele De Rossi Darsi nervoso, continua a bestemmiare Attenzione sale Ma ricordiamo che in questo senso passa la Roma In questo momento da fare è quale feccato Mesto feccato Mesto da fare è se qualifiche Attenzione aumenta il nervosismo anche la cat E' nervosa Che non si vede un cazzo ma va bene lo stesso Com'è che avrei entrare nell'obiettivo? E' troppo cazzo Dio che cazzo del passaggio di merda Sto proprio 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 Spicare come disse signor Barone in Inghilterra e Argentina Di quel Mondiale là Ma che cazzo non si stoppe? Che presto secondo me dica di Valencia? Che domanda a Madrid? E' la stanza no porro chi ma se no c'è grugnola no mamma c'è grugnola torta stia zitta e commenta torta cosa ne dici di questa partita entusiasmante io vorrei dire che sì sta partendo attenzione sulla fascia eccolo oh donna un piccolo pericoloso il nervosismo sale alle stelle il nervosismo sale alle stelle che è che è gioco lì 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 se la prendi neanche con la miniatura andiamo a inquadrare il match vediamo si veste il il quale trevo coach da fare che è nervosissimo attenzione no ho sbagliato tutto e niente non nulla di fatto lì lì lascia andare a bordo il 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 se il questo il m murcia ho rischiato di perdere tutto ah no, andava a supplementare no, ah già è vero ah già che se mi per... te ne go vai supplementare non è fuori amici amiche, ero del maturnale eh... e lascia andare sto destro ed è caccio d'angolo si ma manca ormai il premio di 10 secondi è fatta vai metà la dita eh... 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 è il col del gioco è lui qua di chiamata è lui qua di chiamata ehm... aspetta 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 rimettilo che... mettiamo un replay tra-na-na-na-na-na-na-na-na-na ta-na-na-na-na-na-na-na-na-na ecuuu 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 e adesso c'è la super speed a Roma a Stonville Vai restietti Torna a preparare la musica comunque E finisci qua Un commento a caldo La madonna E da qui stacchiamo Al prossimo collegamento amici